Ciao, ben ritrovato, ben ritrovata. Credo tu stia venendo da una delle lezioni sul cerca verticale o il cerco orizzontale, oppure dalla lezione dell'indice a confronta. Qui metteremo a confronto il cerca verticale e l'indice a confronta, appunto. Tutto quello che sto dicendo vale anche per il cerca orizzontale, ovviamente, trasposto in maniera, appunto, orizzontale e non più verticale. Quindi abbiamo un primo punto da parte dell'indice a confronta che è in grado di cercare in maniera sia orizzontale che verticale. Andiamo a vedere un'altra piccola sfida di queste due funzioni. Qui abbiamo una tabella, come al solito noi scriviamo l'id, qui ho messo un bello uguale a questa cella, quindi basterà cambiarlo solo da qui. Io, avendo questo id, voglio scoprire il prezzo di vendita. Il nostro database è grandicello, ha quattro colonne, abbiamo la colonna categoria, vediamo uomo, donna, non credo ce ne siano altre. Abbiamo il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, quindi a quanto l'abbiamo acquistato, a quanto l'abbiamo venduto e l'id. L'id l'abbiamo nella colonna D, non nella colonna A. Guardate che succede se uso l'indice a confronta, id 007, id 007, prezzo di vendita 6,11, 6,11. L'indice a confronta funziona. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice il cerca verticale. Ci dà 8,1, che è sbagliatissimo. Non so da dove l'abbia pescato, ma non è quello corretto. Perché nel cerca verticale il valore da ricercare, in questo caso l'id qui dentro, nella cella G2, deve essere dentro la matrice, ma nella prima colonna della matrice, ovvero devo modificare l'indice ad S4, deve essere una cosa del genere. Anche spostando l'intera colonna, l'indice a confronta ha funzionato. E questo ci porta alla prossima sfida. Ora che ho fatto, ho aggiunto semplicemente una colonna, il cerca verticale è partito, mi dà completamente un valore sbagliatissimo, l'indice a confronta continua a funzionare senza problemi. Cioè, se tu all'interno della matrice aggiungi altre righe o altre colonne, nel cerca verticale e orizzontale, l'indice, questo numerino qui, non si aggiorna. Qualora il tuo database dovesse essere di tante colonne, magari 12 o 13, ti devi ogni volta fare il conto e dire, no, metti 12, metti 13, e magari perdi il conto, magari c'è una colonna nascosta. Magari scrivi male, proprio un errore di battitura. Può accadere. Per poi inserire che cosa? Un indice, un valore numerico che non si aggiorna qualora tu dovessi aggiungere o spostare le colonne o le righe nel cerco orizzontale. E quindi direi che siamo ad un altro punto per l'indice a confronta che tutte queste cose le fa e siamo a 4. E adesso un altro. È un po' avanzato e si chiama gestione nomi. Che cos'è la gestione nomi? In questo esempio non la spiego, però è più o meno questo. Io vado su formule, gestione nomi, io gli dico nuovo, gli do un nome, in questo caso direi id. Gli dico qual è l'id, questo, tutta la colonna A, come vedi, vado da A ad A, selezionandola così. Questo è l'id. Poi gli dico, vabbè, dammene un altro nuovo. Io direi prezzo vendita, non posso mettere gli spazi in questo nome, ed è tutta la colonna E. Adesso riscrivo questa funzione, nota bene. Cosa mi deve indicizzare? Mi deve indicizzare il prezzo di vendita. Siccome l'ho rinominato, prezzo vend, è tutto questo. Punto e virgola, confronta. Mi deve trovare il valore, in questo caso il valore di questa cella, potevo anche rinominarlo. Punto e virgola, matrice, ovvero dove deve cercarlo, lo deve cercare nella colonna A. Gli potrei dire questo, e mi trova automaticamente, guarda che si chiama id, oppure lo potevo proprio scrivere id. Ecco qui. Punto e virgola, corrispondenza esatta, con lo zero. Chiudo le due parentesi. Invio. Ecco fatto. Proviamo cosa succede con il cerca verticale. Deve cercare questo valore, punto e virgola, all'interno di questa matrice, punto e virgola, e ci deve restituire che cosa? Il prezzo. Noi in gestione nomi l'abbiamo chiamato prezzo, qui non possiamo scrivere prezzo, dobbiamo dirgli colonna in questo caso, 1, 2, 3, 4 e 5. Colonna 5. Come avrai già intuito, la funzione cerca verticale non si integra bene con la gestione nomi, o meglio, io qua nel cerca verticale potrei rinominare solo due cose. La prima è il valore da cercare, ma l'abbiamo visto anche qui, potrei rinominarlo anche qui, valore da cercare. E poi la seconda sarebbe la matrice tabella, che in questo caso io potrei chiamare database, ma il che non mi aiuterebbe. Se apro la funzione e leggo la formula, mi direbbe, guarda, sto cercando un valore nel database, restituendo un valore presente nella colonna 5. E quindi io devo capire qual è il database, me lo devo ricordare, o entrare nella formula e quindi me lo mette così, in questo caso in rosa. E poi guardare qual è la colonna 5. Mentre, in un indice confronta, che succede? Mi dice, guarda che sto indicizzando il prezzo, confrontando un valore da cercare nella colonna ID. E questi nomi qua li scelgo io, quindi questo lo posso proprio chiamare prezzo di vendita, valore da cercare, non lo so, quello che mi pare, però io lascerei cella, colonna ID. Quindi io leggendo la formula, io personalmente da umano capisco. Nel caso del cerco verticale, o anche del cerco orizzontale, io, anche usando la gestione dei nomi, non capirei proprio una... Non capirei niente. Se non hai visto il tutorial dell'indice a confronta, ci vediamo lì o al prossimo video. Ciao!